Nella casa di Via della Pergola, a Perugia, la notte fra l'uno e il 2 novembre 2007, quella in cui fu uccisa Meredith Kircher insieme a Rudy Guedet, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, c'erano anche Raffaele Sollecito e Amanda Knox. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze, che a gennaio scorso ha condannato i due ex fidanzati, rispettivamente a 25 e 28 anni di reclusione, nelle motivazioni della sentenza scrive di avere, a questo proposito, elementi indiziari di sicuro affidamento. Parla di elementi plurimi e concordanti. Guedet, Lannox e Sollecito hanno lasciato tracce del loro passaggio per deposizione ematica del sangue della vittima, che era fuoriuscito copiosamente dalle ferite. La traccia biologica rinvenuta sul gancetto del reggiseno di Metz, inoltre, fu lasciata da Raffaele Sollecito. Il gancetto fu quindi manipolato dall'imputato la sera dell'omicidio. Secondo i giudici fiorentini, il movente dell'omicidio non fu un gioco erotico finito male, ma una volontà di prevaricazione e di umiliazione verso Meredith. Da parte di Amanda, che con lei non aveva un buon rapporto di convivenza, è Raffaele. Quella sera vi fu un litigio fra Amanda e Metz, con una progressiva aggressività all'interno della quale si può collocare la violenza sessuale di Guedet su Meredith, ma non è credibile che fra i quattro ragazzi fosse iniziata un'attività sessuale. Metz, dunque, fu colpita al collo da due armi da taglio distinte, una impugnata da Amanda Knox, che provocò la ferita ritenuta mortale, mentre l'altra da Raffaele Sollecito.